Oggi apriamo il Natale in piazza Città di Lombardia, torna la pista sul ghiaccio. Torna la pista sul ghiaccio, è un momento di opportunità per stare insieme, per festeggiare insieme il Natale, un momento per dare una grande centralità alla nostra piazza e pensiamo che sia una bella iniziativa che comporta anche la possibilità di fare un po' di solidarietà, di continuare in questa operazione che tutti i nostri cittadini stanno portando avanti così bene. Vorrei dire che il Natale non è soltanto una raccolta di buoni sentimenti intorno a una scenetta così bella come quella del presepe. Il Natale si può intitolare anche così, qualcuno bussa al tuo cuore, cioè c'è una voce, c'è un evento, c'è un incontro che scuote dall'indifferenza e diventa una sorta di vocazione alla speranza, alla solidarietà, alla intelligenza su di sé e sul proprio futuro.